amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati apriamo dunque la pagina sportiva con il campionato di serie c e con la lucchese c'era infatti in programma l'attesissimo derby del manucci di pontedera voglia di vincere di continuare nella buona striscia che l'ha portata dentro la zona playoff tra un mercato che potrebbe decollare una cessione societaria chissà dietro l'angolo la lucchese cala pontedera sostenuta da oltre 500 tifosi bel colpo d'occhio per il manucci in una domenica grigia e più viginosa maraia la rimpatriata qui dove ha vissuto dieci anni della sua esperienza calcistica mica bazzecole il tecnico rosso nero sceglie da lena e mediana al posto di visconti più palleggio e meno corsa per il resto è la formazione tipo con rientro di ben assai in difesa tra i granata locali il grande ex capitano si chiama marcos e specie pare di essere al porterisa tanto sale alto l'incitamento dei tifosi e la lucchese in maglia oro con banda trasversale rosso nera se ne accorge tanto che assume subito il comando del gioco gara tuttavia equilibrata la prima occasione al diciottesimo e per il granata padrone di casa con perretta in realtà almeno nella prima mezz'ora la montagna attesa partorisce il classico topolino come emozioni tanto impegno sì da ambo le parti ma pochi guizi ed occasioni degne di tale nome tegola per la lucchese poco dopo la mezz'ora infortuni a franco problema la caviglia destra al suo posto tumbarello nel recupero del primo tempo grande parata di cucchietti sul colpo di testa ravvicinato si va a riposo sullo 0 a 0 al termine di un primo tempo deludente da parte della lucchese in avvio di riprese ancora il ponte d'era a cercare la conclusione con perretta alto lucchese finora non pervenuta urge qualche cambio ravasi al posto di un bianchimano impalpabile fuori anche rizzopine debutto del ne acquisto panico tiritiello da valoroso capitano prova a suonare la carica parte palla al piede e impegna per la prima volta stan campiano ora la pantera cambia ritmo e sale in cattedra occasione per mastalli che però non la sfrutta ma è un derby che pare destinato al nulla di fatto e così è finisce 0 a 0 anche se va detto che ai punti il ponte d'era fatto qualcosina di più tutto sommato partita deludente delusione anche per i 500 appassionati tifosi che hanno seguito la lucchese con la speranza di una vittoria che non ha mai dato l'impressione di poter arrivare un po di cuore in più quello della vecchia pantera non sarebbe guastato vediamo nel dettaglio i risultati della 22esima giornata di serie c girone b rimini entella 1 a 4 alessandria gubbio 2 a 1 montevarchi reggiana 1 a 2 carrarese sandonato tavarnelle 1 a 3 fermana recanatese 0 a 0 fiorenzuola ancona 0 a 1 pontedera lucchese come abbiamo visto 0 a 0 siena e molese 1 a 0 torres cesena 0 a 1 vispesaro olbia 2 a 1 la classifica reggiana 49 cesena 44 entella 42 per le primissime posizioni la lucchese ottava in compagnia della carrarese con 33 punti e quindi al momento sarebbe ai playoff scendiamo in serie di abbiamo seguito la partita del carraia tra il giviborgo di massimo maccarone e il città di castello vernissage 2023 al carraia per il giviborgo arriva il città di castello per una gara dove bianco rosso azzurri di maccarone vorrebbero regalarsi la quarta vittoria stagionale finora pochi successi per signorali e compagni tanto che la classifica rimane quella a metà del guado stanno un po meglio gli umbri ma non troppo big mac ripropone il giviborgo del dopomercato invernale con la novità di seminare in difesa preferita rotunno givi maglia gialla e pantaloncini neri per dovere di ospitalità umbri in bianco rosso stile ajax parte fortissimo la squadra della media valle che al dodicesimo è già in vantaggio rete del centravanti tigani che si conferma se mai ce ne fosse stato bisogno un ottimo innesto l'incornata vincente è frutto dell'ottimo traversone dalla sinistra del sempre vivace buongiorni e non a caso proprio il numero 11 di maccarone sei minuti più tardi trova il punto del raddoppio ancora di testa su cross di sgherri dalla destra che indirizza la partita decisamente sui binari giusti ma non troppo perché al 23 il castello alza la voce la riapre la rete porta la firma di gorini numero 5 capitano degli umbri che approfitta di un pallone perduto in malo modo dalla retroguardia locale subito dopo la mezz'ora ancora gorini pizzica la traversa direttamente sul calcio di punizione e al 38esimo si fa minaccioso anche l'ex mosti che costringe antonini alla deviazione in calcio d'angolo partita piacevole aperta troppo aperta in avvio di ripresa mukai spreche cross invece di calciare in porta per il possibile 3 a 1 all'incedere del quarto d'ora il città di castello gela il carraia e trova il punto del 2 a 2 consilla rete ancora di testa su punizione calibrata di gorini tutto da rifare e doppio vantaggio sfumato e non è la prima volta poi subentra più la paura di perdere che la voglia di vincere e la partita si trascina in modo alquanto stracco verso la fine in realtà gli ospiti sfiorano addirittura il colpaccio con silla che raccoglie un bel traversone di grassi il pallone si vila di poco a fondo campo finisce 2 a 2 risultato giusto che a città di castello va venone al giviborgo un po' meno dopo essere andato rapidamente sul 2 a 0 ma è così prendere o lasciare purtroppo la squadra non sa gestire partite anche avviate nel modo giusto e questa alla lunga potrebbe pesare altro pareggio che non fa classifica e domenica prossima trasferta a monte spaccato urge una vittoria risultati della serie di cominciando dal girone di bagnolese prato 2 a 3 carpi salso maggiore 2 a 0 corticella aglianese 2 a 1 fanfula coreggese 1 a 0 forri sant'angelo 2 a 1 gianerminio riccione 3 a 0 lentigione crema 2 a 1 pistoiese mezzolara 2 a 1 ravenna scandici 2 a 0 a proposito di squadre che si sono fatte rimontare real forte querceta san maurese 3 a 3 anche qui real forte era in vantaggio anche di due gol ma si è fatto poi recuperare classifica e la gianerminio se n'è andata 50 punti forri e pistoiese 39 carpi 36 fanfula 34 bene comunque real forte querceta che è al sesto posto in compagnia di san maurese aglianese con 32 punti girone flaminia monte spaccato 2 a 1 follonica gavorrano arezzo 1 a 3 giviborgo città di castello 2 a 2 orvietano stiamare 3 a 1 poggibonsi pianese 3 a 0 clamorosa la sconfitta della pianese san giovanese livorno 1 a 0 seravezza pozzi grosseto 0 a 0 sporting trestina tau calcio alto pascio 1 a 2 molto bene la squadra di pietro cristiani terra nuova traiana mobiliari ponsacco 0 a 1 la classifica pianese arezzo continuano in questo loro infinito duello 40 punti poggibonsi 35 poi flaminia 32 gavorrano 31 vediamo le nostre seravezza a 25 punti molto bene tau calcio che risale e al momento sarebbe fuori dai play out con 24 punti il giviborgo a 21 punti col grosseto risultati anche del campionato di eccellenza picchi livorno fucecchi 1 a 1 camaiore prolivorno 0 a 2 cuoio pelli certaldo 1 a 0 fratres perignano montespertoli 0 a 0 ponte bugianese san miniato 2 a 0 river pieve san marcovenza 1 a 1 cenaia massese 2 a 1 tutto cuoio castel fiorentino 1 a 2 cenaia 34 prova ad allungare la squadra di massimo macelloni perignano e cuoio pelli 31 molto bene river pieve di pacifico fanani al quarto posto con 29 punti lo scivolone del camaiore l'abbiamo visto che comunque con 23 punti è in posizione relativamente tranquilla lasciamo il calcio e passiamo al basket accertare e accordare il rinvio della partita contro la dinamo sassari che era prevista questa domenica alle 18 al palatagliate è il segno tangibile che si possono avere difficoltà sul campo in campionato ma si può vincere con la classe e lo stile che appartiene da sempre alla dirigenza del basket lemura lucca perché di questa squadra che parliamo è di questa società il rinvio ricordiamo è dovuto ad un incidente stradale che per fortuna non ha avuto particolari conseguenze ma che ha coinvolto nella giornata di sabato tre giocatrici della dinamo sassari la basket lemura diffuso un documento in cui vi leggo questo passaggio dove naturalmente al di là del fatto che per il basket lemura la naturalmente la salute delle ragazze è la prima cosa dice al tempo stesso non possiamo esimerci da ricordare il trattamento completamente diverso che c'è stato riservato nella stagione 21 22 allora febbre e sintomi riconducibili al covid regolarmente certificati non furono sufficienti al rinvio della partita contro il famiglia schio e andò in scena ve lo ricordo io una partita di cui vediamo alcune immagini che non ebbe assolutamente alcun senso lemura dovette giocare con cinque ragazze proprio contate di fronte ad una squadra che da anni è la più forte d'italia ma ripetiamo lo stile la classe l'eleganza non si comprano da nessuna parte o si hanno o non si hanno su questo argomento vogliamo tornare per quanto riguarda il basket giocato la c gold la vittoria del basketball club lucca fuori casa a livorno sul don bosco 86 a 73 in una partita che ha visto lucca comportarsi molto bene 22 punti di simonetti 19 di burgalassi e dunque la prima partita dell'anno per il basketball club lucca comincia possiamo dire nel migliore dei modi abbiamo anche un'altra foto che invece riguarda l'altra squadra che gioca nella c gold ovvero il bam alto pascio un bam alto pascio tra l'altro rimaneggiatissimo privo di salazar squalificato privo di marco creati e nulla da fare sul campo del cecina che si è imposto 104 a 63 passiamo alla pallavolo e alla nottolini che alla palapiaggia ospitava la capolista parella torino la nottolini quasi come novella paganini non ripete e non concede il bis dopo la clamorosa vittoria di volpiano e la grande dimostrazione di forza fornita una settimana fa sul campo delle piemontesi un'altra formazione sabauda si staglia sulla strada di tre visi o le compagnie è niente meno che l'altra capolista ovvero il parella torino si gioca in un palapiaggia ribollente passione da febbre del sabato sera che l'entusiasmo sembra padrone del palazzetto capannorese ospiti in rosso mentre il padrone di casa sfoggiano l'ormai tradizionale verde l'attese grande si consuma in modo frenetico la speranza intatta perché vincendo si riaprirebbero giochi anche per le zone altissime della classifica perdono sia castelfranco che volpiano ed in effetti i primi due set avallano più o meno tutto quello che bolle nel pentolone della serata il primo se lo aggiudica al parella 25 20 ma con grande rimpianto per i cinque punti di vantaggio gettati alle ortiche nel secondo la toscana garden img di coach capponi sale in cattedra trascinata da una sontuosa alessia sgherza 25 punti e titolo di migliore in campo per la numero 11 e si impone addirittura al 18 il pubblico si frega le mani e pensa che adesso ci sarà un'altra impresa ed invece non è proprio così sia chiaro che la nottolini lotta e gioca gioca e lotta alla pari con la squadra più forte del campionato ma sono le ospiti che hanno sempre quel punto in più che permette loro di spuntarla in fotocopia 25 22 nel terzo e quarto sette di chiudere il conto sul 3 a 1 alla fine però applausi per tutti per vincitrice vinte ma confortati dalla convinzione che questa nottolini potrà giocare un grandissimo girone di ritorno ora la sosta e fra 15 giorni ancora al palapiagge sotto con il caselle torino quando ci sarà il presumibile debutto di martina mastronardi è proprio vero tempo di piemonte tempo di grandeur così per dirla alla francese una bellissima giornata di rugby al bernardo romei dove le ragazze del rugby luc hanno giocato la loro prima partita di rugby a 15 con i colori societari il match le ha viste affrontare le forti ed esperte ragazze del puma bisenzio l'unica squadra toscana di serie a è finito 5 a 0 per le ospiti ma le ragazze lucchesi qui vediamo in una foto ma torneremo su questa partita con un servizio nei prossimi giorni si sono ben comportate il campionato di hockey su pista sabato sera è sceso in campo il forte dei marmi contro il monte bello dopo la delusione dell'eliminazione dalla coppa italia perdendo con i lodi il forte dei marmi fra le mura amiche si è riscattato battendo per 10 a 2 nettamente il fanalino di coda monte bello dimostrando tutte le sue potenzialità nella sfida contro i veneti i vicentini hanno tenuto testa ai padroni di casa per 30 minuti era passato in vantaggio il forte dei marmi con cinquini e aveva subito il momentaneo pareggio di borregan poi però hanno dilagato i ragazzi di gual e molina con un parziale di 8 a 1 con le triplette del difensore torner ma anche le reti tre di federico ambrosio ritrovato alla grande il forte dei marmi è andato a segno con sei giocatori su otto ed è forse la più bella notizia per i tifosi rosso blu infatti hanno marcato sul tabellino gil rossi e il luzzi ora i forti marmini si trovano al quinto posto con ancora tutto da giocarsi tranne la vetta hanno un girone di ritorno per riscattarsi dopo quello di andata in cui ci sono stati risultati altanelanti che hanno distaccato sicuramente dalla vetta della classifica alla squadra che aveva le intenzioni ovviamente di far meglio di quello che ha fatto fino adesso è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del tg noi adesso spazio alla regia per una serie di preziosi suggerimenti commerciali subito dopo il telegiornale si completerà con la terza ed ultima parte Grazie Grazie Grazie